Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video ragazzi, siamo qui su Yu-Gi-Oh! 2 Links e sì, questo è il terzo video farming che vi porto ed è molto molto faticoso portarli tutti di seguito però purtroppo adesso ho un po' di tempo e quindi cerco di farli tutti adesso allora, come al solito vado a mostrare immediatamente il deck come al solito utilizziamo i fratelli Paradox con l'abilità Unione Elementale che ci permette di attivare il guardiano da 3750 punti di attacco che è appunto un mostro veramente veramente buono però abbiamo delle penitenze e quindi non possiamo avere ulteriori carte in mano quindi non peschiamo le 5 carte, 4 carte che peschiamo inizialmente e quindi ci ritroviamo con solo 500 life points quindi sì, abbiamo parecchi svantaggi però contro alcuni personaggi leggendari che non infliggono danni da effetti e non possono distruggere mostri questo deck è ottimo come abbiamo già visto già ne abbiamo farmati due perché questo è il terzo video Yami Yugi e Thea Gardner quindi oggi andiamo a farmare qualcun altro il deck è sempre lo stesso, deck molto veloce con Gera della Cupidigia in 3x che velocizza il tutto Scheggia della Vedità e il 3x di Drago del Tuono sono allora la Cupidigia peschi una carta si ottiene dal commerciante di carte Scheggia della Vedità dopo due turni peschiamo due carte si ottiene dalle bustine Drago del Tuono aggiungiamo due draghi scartandone uno si ottiene dal commerciante di carte tutte carte che permettono di velocizzare il deck poi il deck si basa che a fine del nostro deck quando giochiamo dobbiamo avere queste quattro carte per fare la combo le carte sono Vassallo che attaccherà direttamente grazie a passaggio segreto per il tesoro e verrà pompato da attacco unione e farà più di 10.000 punti di danno da effetto appunto il Vassallo si ottiene dalle bustine il passaggio segreto si ottiene dalle bustine l'attacco unione lo dico sempre si ottiene da due eventi dall'evento di Yugi Muto che si può fare solo quando appunto è attivo in dual world e dall'evento le cronache dei due lanti che anche esso si fa solo quando è attivo in dual world quando non sono attivi non potete avere questa carta se non sbaglio neanche con le gemme cioè neanche con i coupon super rari poi abbiamo come carte di supporto il windstorm e il controllo avversario che sono due carte difensive che non servono sempre ma servono incontro qualche personaggio il windstorm è praticamente ottenibile livellando my valentine mentre il controllo avversario è ottenibile farmando seto kaiba poi abbiamo frecce anti magia carta quasi inutile perché non serve che però può comunque aiutarci contro alcuni duellanti che attivano carte trappole magia per difendersi con questa carta insomma glielo impediamo quindi queste sono tre carte che come dico sempre potrebbero non esserci ma visto che il deck già è velocissimo io le ho volute inserire potete sostituirle benissimo tutte e tre e inserire tre carte per pescare ulteriormente andrà bene ugualmente allora andando sempre per ordine come vi dicevo eravamo rimasti a farmare tea perfetto dopo tea c'è bruchido che può essere farmato con questo deck ed è veramente una cavolata anzi contro questo qui veramente non c'è bisogno di fare niente è il più adatto per essere farmato da questo deck ma perché non ve lo faccio vedere perché sul canale già ho fatto una deck list per farmarlo a livello 40 dove si ottengono 8000 punteggi duello e quella deck list che feci tanto tanto tempo fa prima che esistesse questa skill dei fratelli paradox è un deck veramente molto molto originale quindi se siete interessati a farmare bruchido andate a vedere quella deck list o comunque vi assicuro che lo potete farmare stesso con questa deck list qui quindi fatela andateci contro tanto non ci sono consigli dovete semplicemente giocare il mostro e non fare niente pescare fino a che non vincete il duello andando sempre per ordine abbiamo rex raptor che non ho portato mai mi sembra sul canale ho portato rex raptor ruggente queste sono le carte che droppa che sinceramente sono praticamente inutili tutte sono più utili le rare che le super rare però comunque andiamolo a farmare livello 40 questo deck insomma lo farma alla grande inizierà il nostro avversario finalmente e questa cosa per noi è positiva perché perché pescheremo una carta finalmente di primo turno pescheremo una carta in più che potrà essere una carta per velocizzare il deck e quindi andiamo bene allora non ci sono consigli da dare a dire la verità contro rex raptor a differenza di altri personaggi rex raptor non può fare assolutamente nulla contro il nostro deck infatti se non sbaglio ci basterà semplicemente stare fermi o se vogliamo possiamo anche attaccare per fare un punteggio duello finale un giudizio duello finale maggiore quindi attaccando i mostri ma veramente non ce ne sarebbe neanche bisogno lo facciamo perché appunto andiamo ad aumentare il nostro giudizio finale che fa sempre piacere davvero su questo non so che dirvi perché non ci sta nulla da dire lo vedrete stesso voi lo capirete stesso voi giocando per fortuna abbiamo preso una carta per velocizzare un po' il tutto quindi vedete drago del tuono che scartandone uno ci permette di aggiungerne altri due e facciamo meno due nel deck che è veramente una cosa molto molto positiva due mostri distrutti lui non può veramente fare nulla se non sbaglio potrebbe evocare tramite il tributo qualche dinosauro che però massimo arriva intorno ai 2600 se non sbaglio e quindi non sarebbe neanche in grado di buttarci giù il drago bianco occhi blu tenuto in posizione di attacco e come carte trappole magia mi sembra che non ne abbia di difensive assolutamente no ha solo qualche carta che forse gli recupera life points e che gli fa rievocare qualche dinosauro ma più di questo non ha veramente nulla ok leva leva il dinosauro e non so perché non ha fatto nulla comunque va bene così abbiamo windstorm lo settiamo nell'eventualità che faccia qualcosa ma vi assicuro che non lo farà quindi teniamolo lì ma non ci servirà a nulla allora kaibaman sinceramente lo gioco così vi dimostro che non ha nessuna possibilità di buttarci giù il drago bianco occhi blu e se per caso diciamo così la dovesse avere abbiamo il windstorm che ci difende per un turno e quindi andiamo molto molto tranquilli allora al momento non stiamo pescando carte per velocizzare oltre al drago del tuono che abbiamo preso ecco me la sono chiamata per fortuna una scheggia dell'avidità fa sempre comodo e non immaginate quanto è bello pescare in tutte e tre le carte della scheggia dell'avidità nei primi turni praticamente velocizza il duello veramente al limite praticamente penso che in due tre minuti avete farmato il vostro avversario non è che così ci mettiate molto infatti vi basteranno forse sei sette minuti però arrivare quasi a dimezzare il tempo per farmare è veramente un'ottima cosa infatti penso che questo deck farm sia veramente uno dei migliori allora andiamo a pescare ulteriori carte spero in un'altra scheggia perfetto quindi giochiamo un'altra scheggia giochiamo un'altra giara ecco qui e terminiamo il turno scartiamo come sempre i draghi del tuono quando ci richiede il gioco di scartare qualche carta e al momento abbiamo distrutto già sei mostri avversari che sono comunque tanti sono tanti perché già arrivando a cinque otteniamo qualche punteggio giudizio duello in più quindi arrivare a sconfiggerne dieci sono veramente parecchi in più quindi adesso siamo a sette potremmo farcela ma non abbiamo questo interesse se volevamo raggiungere quell'obiettivo ci bastava semplicemente non pescare così velocemente e distruggere quanti più mostri possibili ma vi assicuro che non ci serve quindi andiamo a pescare ancora una carta e purtroppo in questo caso non mi conviene fare nulla perché ho solo tre carte nel deck quindi scarterò la giara appena pescata e nel prossimo turno avremo tutto il necessario per andare direttamente e vincere il duello farmando con il massimo del punteggio che ci serve scheggia dell'avidità che una ci deve stare sempre a fine deck però va bene così non ci lamentiamo anche perché ci abbiamo messo veramente poco quindi evochiamo il nostro vassallo come al solito lo equipaggiamo con passaggio segreto per il tesoro cosicché il nostro vassallo potrà attaccare direttamente il nostro avversario lo andiamo ad equipaggiare con il due per di attacco unione quindi primo attacco unione sul primo vassallo secondo attacco unione sempre sul vassallo perché uno è infatti ho sbagliato a dire e andiamo ad attaccare semplicemente se avevo un mostro scoperto avrei giocato anche il controllo avversario per fare un punteggio duello in più però non mi interessa attiviamo frecce antimagia tanto per anche se non servono attacco diretto 14200 punti diretti tutti i danni da effetto e quindi andiamo ad ottenere veramente il massimo punteggio vediamo un poco allora schippiamo tutto molto molto velocemente ecco qui 9200 punti che levandone 1000 perché siamo sempre con il bonus campagna attivo sono 8200 punti premi molto buoni 7000 di oro ottimi una gemma super rara ottima anche se preferirei avere le carte super rare che non ho però va bene così insomma l'importante sarebbe farmare 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 ma diventa un po' stancante quindi diciamo così farmo quando mi serve qualche carta dai personaggi allora io come al solito spero che seppur come già detto questi video sono basati su personaggi molto vecchi e che sono praticamente video già portati anche se con decklist diverse spero che vi faccia lo stesso piacere vedere questi video io come al solito vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like noi ci vediamo con il prossimo bella raga